Eccoci qua per il tutorial del gioco del numero 11, se ve lo siete persi ve lo lascio in descrizione. Però prima del tutorial vi faccio subito la seconda versione, poi arriveranno entrambi i tutorial. Sempre il nostro mazzo di carte, cuori quadrifiori picche, che vado sia a mescolare sia a tagliare. Ed ora vado a prendere le prime dieci carte, una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. L'undicesima la faccio scegliere allo spettatore, ma a differenza della versione precedente il mago non la deve vedere. Quindi magari si gira, si fa dare uno stop, stop, questa è la carta dello spettatore, sono girata, non vedo nulla. Questa è la carta, la metterà sopra il mazzetto e taglierà per disperderla. Ora dovrà mescolare le carte nello stesso modo della prima versione. Quindi andrà a fare due mazzetti mettendo una carta di qua e l'altra di là, sovrapponendo poi come meglio crede. E lo farà quante volte vuole. Adesso una volta l'ho fatta, lancio il dado per determinare quante volte farlo. Uno, a posto. Siamo già a posto, perfetto. Se vogliamo possiamo tagliare. E ora il mago cercherà di capire dove si trova la sua carta. Allora, secondo me la sua carta intanto è il sei di fiori, giusto? E il sei di fiori si trova tra un cinque e un sei, che sommati fanno undici. Se si fosse trovato qui, tra il nove e il quattro, la somma sarebbe stata tredici. Qui, tra il dieci e il quattro, la somma sarebbe stata quattordici e così via. Ma lui, tramite i suoi miscugli e i suoi tagli, ha posizionato la sua carta, individuata poi dal mago, tra un sei e un cinque. Ora, andiamo a contare inizialmente tante carte quanto la somma di queste due, quindi undici. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. E poi andiamo a contare tante carte quanto il valore della carta scelta liberamente dallo spettatore. Quindi sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Il resto possiamo toglierlo. Ora, sarebbe incredibile se la carta su cui siamo capitati fosse uguale alla mia predizione. La mia predizione è un jack di fiori e la carta su cui siamo capitati è anch'essa un jack di fiori. Passiamo subito al tutorial della prima versione, quindi dove praticamente la carta rimane di faccia. Mentre nella seconda il mago ritrova la carta dello spettatore. Poi useremo anche questa carta per l'hakan, quindi ci ho aggiunto queste due cosine qua. Allora, vi serve una scala dall'asso al dieci, asso due, semi misti. Poi tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove e dieci. Ora, dobbiamo costruire delle coppie che formino la somma undici. Già sarebbero a posto così. Cioè, se noi iniziassimo con la scala dall'asso al dieci, saremmo già a posto. Però, io vi consiglio, anche per mostrare le carte inizialmente, senza che si veda magari una scala per chi ha l'occhio attento, di comporre appunto delle coppie. Quindi, le coppie vanno divise così. Dieci e asso, praticamente prendendo la prima e l'ultima. Due, nove. Tre, otto. Quattro, sette e cinque, sei. Ok? Formiamo le coppie in questo modo. Prendiamo una coppia, ne mettiamo una di qua, l'altra di là. Poi, ad esempio, prendiamo il sette e il quattro. Una la mettiamo seconda dalla cima, l'altra la mettiamo seconda dal fondo. Poi prendiamo, ad esempio, l'asso il dieci. Una la mettiamo terza dalla cima, l'altra terza dal fondo. Poi prendiamo l'otto e il tre, uno lo mettiamo qua, uno lo mettiamo qua e infine il due e il nove. Uno qua e uno qua e uniamo il tutto. Ok? Prendiamo il jack di fiori e lo mettiamo in decima posizione. Una, due, undicesima, scusate. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. Undicesima posizione, poi ci vanno sopra queste dieci carte e siamo a posto. Questa qua va coperta. Diciamo che questo è il gioco del numero undici. Facciamo un falso miscuglio. Quello che faccio io è pelare la prima metà di carte come mi viene. Quando so di aver superato la metà, mi fermo, butto giù queste carte e qua vado semplicemente a tagliare, però magari facendo questo sembra sempre che vado a mescolare come ho fatto inizialmente, ma in realtà sto solo tagliando. E poi vado a fare un finto taglio. Io ad esempio faccio questo che mi piace molto. Vabbè, magari un giorno ve lo spiegherò nel dettaglio. Comunque è un falso taglio. E siamo pronti per cominciare. Diciamo che distribuiremo dieci carte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. E l'undicesima andrà a scegliersela lo spettatore liberamente. Liberamente però non deve andare a scegliere una delle prime undici carte, perché altrimenti o ci toglie il jack o ci porta il nostro jack in decima posizione. Quindi o fate un ventaglio dove il primo blocco di carte appunto rimane bloccato e quindi sarà costretto a scegliere una di queste. Oppure, che ne so, vi fate dire stop in un punto qualsiasi, però state attenti ad andare ben giù l'undicesima carta, ok? Quindi stop, prende questa, che sarà una carta a caso. Può metterla sulla cima e tagliare, oppure per essere un po' più illusivi può tagliare il mazzetto, mettere sopra la sua carta, ma non nel taglio effettivo che ha fatto, ma su quella che era la prima carta e chiudere con il sottostante. Ora, indipendentemente da quante volte lui faccia quel procedimento, le due carte vicine alla carta scelta farà sempre undici la somma. Vi faccio vedere. Allora, se lo fa una volta e chiude come vuole, vedete? La carta è qui, sette e quattro che fa undici. Poi si va a tagliare, si fanno due mazzetti, si mette uno sull'altro, vedete la carta è qui, otto e tre, che fa undici. Lo facciamo una terza volta, mettiamo questo su questo, vi faccio vedere che questa volta c'è un dieci e un asso, che fa undici, lo facciamo una quarta volta, tacchete, stavolta abbiamo un nove e un due, e se lo facciamo la quinta volta, avremo quello che rimane, che se non sbaglio è il dieci, no, è il cinque e il sei, è il cinque e il sei. Benissimo, e continuando a farlo, si ripetono le carte di prima, quindi indipendentemente da quante volte lui lo faccia, la somma sarà sempre undici. Quindi supponiamo si fermi, diciamo andiamo a vedere che carte ha catturato la tua carta scelta, quindi quella alla destra e quella alla sinistra. Togliamo le carte in eccesso, le possiamo anche mostrare, ok, non c'è nessun problema, faremo notare che questo gioco si chiama il gioco del numero undici, perché qua abbiamo una somma undici, sei più cinque undici, andiamo a contare undici carte da un mazzo mescolato e tagliato, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, ci sarà un jack che vale undici, ma non è un jack qualsiasi, bensì il jack di fiori come la nostra predizione. Questo è il tutorial della prima versione. Tutorial della seconda versione. Allora, anche qui ci serve la solita scala, possiamo fare, non so, sette e quattro, dieci, e asso, tre e otto, sei, cinque, nove e due. Benissimo. Attenzione perché stavolta la carta andrà in dodicesima posizione, non in undicesima, poi capirete perché. Quindi, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, tutte figure. Aspetta che le mescoliamo un po'. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici. La scala va sopra e siamo pronti per cominciare. Il solito finto miscuglio, quello che meglio vi riesce. Tacchete, 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 tacchete. Spero di non aver fatto un danno, forse ho sfilato una carta che non doveva essere sfilata, comunque ok. Un falso taglio e prendo le prime dieci carte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Allora, lo spettatore sceglierà veramente una carta libera e noi veramente non la vedremo. Ovviamente deve sempre scegliere una carta dopo il nostro jack che è in posizione numero dodici stavolta. Quindi, non so, scegli una carta, in questo modo qua, sarà costretto a scegliere una dopo la metà, ok. Ecco, per esempio, sceglie questa. Adesso la vediamo. È un due di cuori. Lui la metterà sul mazzetto, andrà a tagliare e farà la solita operazione quante volte vuole. Mi fermo alla prima volta, eh, perché tanto avete capito che funziona sempre, la somma è sempre undici. Allora, quando noi andremo a stendere, come facciamo a riconoscere la carta dello spettatore? Noi sappiamo che abbiamo tutti i valori dall'asso al dieci. Giusto? Quindi, la carta dello spettatore sarà o una figura, quindi o un jack, una donna e un kappa e sarà facile da riconoscerla, oppure sarà un valore ripetuto. Quindi, in questo caso, vedo che ho due due. Un due qua e un due qua. La carta dello spettatore sarà quella che alla destra e alla sinistra avrà la somma undici. Adesso questo due è qua in fondo, non ha nessuna carta vicina, però considero l'otto e il sei, fa quattordici, quindi non può essere questa carta, bensì sarà questa, il due di cuori, perché è tra un dieci e un asso. Quindi dico, secondo me la tua carta è il due di cuori e non casualmente il due di cuori si trova vicino ad un dieci e ad un asso. Possiamo fare qualche esempio. Se si fosse trovato qui, la somma sarebbe stata nove più cinque, quattordici. Fosse stato qui, la somma sarebbe stata sedici. Fosse stato qui dodici. Fosse stato qui dieci. Insomma, però tu con i tuoi miscugli, con i tuoi tagli, hai collocato la tua carta tra un asso e un dieci, che sommati fanno undici. Ora, inizialmente andrò a prendere tante carte quanto questa somma, undici, e non dovete contarle sul tavolo, ma in mano, senza invertire l'ordine. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci, undici, buttate a terra. Ora, la dodicesima carta, quindi il nostro Jack, è in cima. Quindi capite bene che contando le carte senza invertire l'ordine, non importa quale sia il valore scelto dallo spettatore, perché la sua carta sarà sempre in cima, ma questa cosa vi assicuro che è stra, stra, stra illusiva. Aspettate magari prima di girare la prima carta, ok? parlate un attimino e vedrete che non se ne accorgerà nessuno. Quindi abbiamo preso undici carte ed ora ne prendiamo tante quanto il valore della tua carta che hai scelto liberamente. Uno, due, buttate a terra le due carte, questo non vi serve, tirate via queste carte qua, avvicinate la vostra predizione che ovviamente era di dorso e non di faccia come adesso, parlate un attimo e dite siamo capitati su questa carta, dopo tutto ciò che è avvenuto e sarebbe incredibile se questa carta combaciasse con la mia. La mia è un jack di fiori, la tua è un jack di fiori. Allora, qualcuno si starà chiedendo che cosa succede se la carta sfigatamente, si dice sfigatamente, sfortunatamente, andiamo più sul sicuro, e dopo i suoi miscugli, i suoi tagli, arriva o prima o ultima perché non c'è la carta prima e la carta dopo, cioè non ha due carte di fianco. Niente, fate tagliare in un secondo momento. non mi viene in mente nient'altro, cioè nel senso, se per esempio anziché il 2 di cuori fosse stato il 2 di picche, voi dite la tua carta secondo me, chiudendo magari, è il 2 di picche, giusto? Sì. Taglia è completa, tacchete, tacchete, il 2 di picche va a finire sicuramente in mezzo da qualche parte e sarà, adesso non è il caso perché non era questa la carta, sarà tra una somma 11. Stessa cosa se la carta si trova prima o ultima, dipende dai punti di vista, la tua carta era il 9 di quadri, giusto? Benissimo. vai a tagliare, vediamo dove si colloca e andrete a vedere le due carte vicine che faranno come somma 11. Boh, non mi viene in mente nient'altro, comunque diciamo su 11 carte che la carta venga prima e ultima insomma succede poco, ecco, quindi speriamo non succeda e se succede rimediate o come vi ho consigliato io o come meglio credete. Bene, questo era il tutorial, anzi i tutorial delle due versioni, fatemi sapere quella che più vi è piaciuta e ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao!